Pronto? Sì? Sì sono io, la mamma di Daniele, sì sì sì, sì è qui davanti a me, sì sì, mi dica Sì sì, no 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 Ecco non sapevo, adesso gli dicono che ho tirato un pugno a Luca ieri, no no forse gli dicono che ho bucato la ruota della maestra No forse gli dicono che mi sono caccato addosso giovedì scorso, come hanno fatto d'accorgersene, beh in effetti puzzavo un po' Oh no no, sì sì sì, sì sì, ah no, certo certo, i compagni, certo, guarda, assolutamente guardi, assolutamente guardi Va bene, buona giornata, arrivederci, arrivederci Daniele, Daniele io non so più come fare con te, io non so veramente Ma non l'ho fatta apposta Quanto vuol dire che non l'hai fatta apposta, è una cosa così grave, non l'hai fatta apposta Daniele che mi fai fare brutta figura ogni volta davanti a me Ma tu, io l'ho fatta la brutta figura, mi ha fatto una caramella a Luca e è successo Chi si è dimenticato la pena rossa a casa Daniele, ma ti rendi conto della gravità della cosa? Boh, ma guarda Ah non era perché mi sono caccato Daniele, guarda Daniele No, 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 no